nuovo colorato smart e gratuito è il nuovo rietti life free press in questi minuti la redazione rietti life sta chiudendo il numero 6 di rietti life free press a una settimana dalla prima uscita del primo quotidiano gratuito della città edito da smile da rietti life vogliamo celebrare con questa trasmissione un piccolo traguardo e parlare proprio di questo prodotto editoriale con voi nei prossimi minuti lo faremo con degli ospiti qui in studio buonasera da cristian dioci aiuti e bentrovati buonasera il direttore di rietti life emiliano grillotti primo ospite di questa serata grazie grazie che onore buonasera a tutti a chi ci segue è già i ritmi di rietti life già erano abbastanza alti adesso abbiamo inserito anche i ritmi del del nuovo free press come detto due il primo giornale quotidiano free press della città questo è una cosa bella per noi sì ma soprattutto per la nostra rietti ovviamente lo vedete in questi giorni nei punti di interesse che dopo ricorderemo però c'è da dire che qui c'è un percorso c'è stato un percorso abbiamo fatto un percorso neanche troppo lungo perché siamo dell'avviso che quando c'è un'idea da mettere in campo e rietti life tutta la sua redazione in questo ne dà testimonianza abbiamo deciso di portarlo di di farlo di metterla in pratica dicevo il percorso percorso intanto da dall'idea di forse sarà il lockdown non so questo questo 2020 può nefasto se lo possiamo dire comunque abbiamo inserito nella nostra famiglia romalife e appunto il rietti life free press che è una nuova testata registrata ovviamente in tribunale e come parla il mio primo editoriale è una sfida di questo di questo si tratta una sfida non ci siamo mai sottratti alle sfide al di là delle sfide perché proporre qualcosa che è cartaceo è vero che è gratuito però è cartaceo farlo peraltro da testata nativamente online nativamente digitale questa è la domanda di che ci hanno fatto tutti della gente dei nostri poi fruitori sì sì assolutamente sul perché io ho sempre risposto perché non c'era e già questa potrebbe essere una prima risposta è una prima indicazione cioè portare a rietti qualche cosa che noi abbiamo sempre visto quando siamo andati fuori soprattutto nelle grandi città allora è partito uno studio anche su questo ricordiamo che ogni parte ogni millimetro quadrato di questo free press è stato studiato attentamente seguendo dei criteri e riattualizzando quello che circa 30 anni fa insomma nacque nei paesi nordici come free press come un giornale eh gratuito sul gratuito noi non dobbiamo dire nulla perché insomma sono diciamo sempre stati quindi scusate sono dieci anni che eh che lo facciamo che lo facciamo con convinzione e eh con convinzione abbiamo deciso di farlo su carta sempre gratuitamente per dare una possibilità in più ai lettori magari a quella nicchia di lettori che ci legge un po' o meno o che non è avvezzo eh al ad internet non è avvezzo ai mezzi di comunicazioni moderni certo ehm quindi questa questa è la è la risposta che eh che vogliamo dare certo le grandi città ci hanno anche insegnato eh degli errori e su questo noi ovviamente non vorremmo rifarli ma ci abbiamo lavorato abbiamo lavorato soprattutto in eh quelle situazioni eh dove la carta eh ha prodotto eh ha prodotto problemi fino alla chiusura ci sono innumerevoli free press nel mondo che hm dopo un inizio così importante eh hanno chiuso noi non dico che abbiamo la ricetta per carità però eh soprattutto in un momento così particolare difficile difficile per tutti difficile anche iniziare un'attività imprenditoriale in questo momento per cui da qui ancora la parola sfida abbiamo deciso di mettere in campo eh questo questo giornale dalle prime dalle prime ci hanno inondato di affetto eh di stima tutti da elettori esponenti del mondo politico associazionistico civile di qualsiasi di qualsiasi tipo è secondo noi e poi dovrete dircelo voi anzi fatelo nei nei commenti di questa di questa diretta è secondo noi un un altro ottimo punto di contatto che abbiamo con voi oltre all'online oltre ai nostri social seguitissimi e vi ringraziamo per questo è una vetrina per gli inserzionisti e quindi ne parleremo anche questo in maniera molto molto approfondita però crediamo anche sia un eh modo per eh far entrare in contatto due mondi diversi forse paralleli la carta e l'online per questo per esempio in alto nella nostra testata eh subito sotto la testata e nei mancetta abbiamo inserito dei QR code che sono uno strumento adesso diventato di uso comunissimo basta avere il cellulare in mano inquadrarli e si arriva sul nostro sito sui nostri social su Roma Life su Terni Life su Rieti Life su Instagram su Facebook e su Twitter eh e poi insomma c'è una continua staffetta con con il sito a livello informativo a livello fotografico e eh a tutti i livelli che eh Rieti Life vi ha abituato nelle informazioni. Concludo con la tua domanda di prima che è la domanda più frequente e cioè eh il nostro percorso inverso eh siamo coscienti di questo eh siamo coscienti di questo non l'abbiamo fatto perché siamo impazziti o perché cioè vediamo che non sia il eh anche diciamolo il core business l'online assolutamente no l'online per noi rimane il nostro punto il nostro e il vostro punto di riferimento come rimane il punto di riferimento degli inserzionisti degli sponsor e di chi crede in questa famiglia perché alla fine questo eh siamo il percorso eh il percorso inverso ovviamente eh nasce da un'esigenza tutte le nuove nostre eh attività sono nate da un'esigenza e era quella di colmare un piccolo buco che si era creato un piccolo spazio che si era creato nella nostra città eh questo noi lo pensavamo prima però come ribadiamo eh abbiamo capito eh abbiamo capito dalle dai 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 resi ecco diciamo così delle nostre copie che praticamente sono inesistenti e cioè che tutte le nostre copie messe sul mercato vengono distribuite abbiamo capito che forse c'era bisogno di questo di riempire questo spazio e noi lo stiamo facendo come tu hai ricordato sotto a questa diretta ma anche negli altri canali eh chi ci conosce personalmente ci può chiamare senza nessun problema confidiamo molto in voi come abbiamo confidato finora in Riedi Life con Riedi Life diteci la vostra se c'è qualche cosa che non va se c'è qualche cosa che va ampliato se c'è qualche cosa che va migliorato noi a questo ci facciamo eh attenzione ogni ogni momento un'altra domanda che ci fanno spesso e sicuramente ci saranno sotto alla nostra diretta sono i punti di interesse che poi Cristia magari vi ricorderà una cosa però vi voglio dire i nostri punti di interesse sono eh in divenire diciamo così nel senso che la nostra è eh una start up eh di distribuzione una start up di ehm proprio di di capillarità che vorremmo sempre aumentare quindi per adesso sono eh un tot ma sicuramente diventeranno diventeranno di più è ovvio eh non ve lo sto qui eh ricordare perché sarebbe retorico il fatto che eh un'azienda che vuole pubblicizzarsi su Riedi Life insomma ha tutti i canali per farsi conoscere per farsi notare cosa che non avrebbe con altre realtà sì veramente insomma è multipiattaforma Riedi Life quindi avete ehm tutta la scelta possibile peraltro tra poco ne parliamo con la responsabile marketing di Riedi Life Valentina Fabri eh visto che Emiliano li ha citati li voglio far vedere questi sono i punti di interesse eh per la distribuzione di Riedi Life Repress che esce ve lo voglio ricordare dal martedì al sabato inclusi dunque piccolo stop la domenica e il lunedì per ricaricare per ricaricarci per eh riorganizzare il lavoro e soprattutto eh per darvi il maggior rapporto possibile su Riedi Life che rimane sempre sempre aggiornato eh punti di interesse che sono vari va si va veramente da i centri nevralgici del commercio penso al centro commerciale Perseo fino a eh riferimenti fondamentali come le edicole li elenco centro commerciale Perseo centro medico San Marco il crai extra in via del Terminillo il bar dell'ospedale l'ospedale dell'ellis IFF 099 in via Sandro Pertini a Campoloniano l'edicola dell'ospedale in via Baroni l'edicola a Villa Reatina in via di Fazio l'edicola in piazza piazza Vittorio Emanuele secondo l'edicola il girasole a Largo Santa Barbara un passo da Palazzo Sanizzi l'edicola a Molino della Salce un riferimento neanche ehm ve lo stiamo a più di tanto precisare l'edicola in via di Matteucci detta anche strisciano notizia e l'edicola piazza Cavour insomma nel cuore della città è un punto di passaggio anche grazie veramente che bello quando quando dicevi punti interesse è stato bello quando hai nominato le edicole le elencate eh un brivido mi ha percorso tutto questo perché c'è dietro il lavoro e l'accordo la stretta di mano con Sinaggi che è il sindacato nazionale giornalai d'Italia più tardi avremo un ospite che ci illustrerà questo accordo penso che però Emiliano voglia ringraziare e salutare soprattutto l'amico Luca Simeoni che avremo tra poco sì sicuramente lo saluto e lo ringrazio abbiamo come avete potuto vedere insomma stretto eh un accordo perché mi è passato un brivido Christian perché non so se forse sarò l'ultimo dei romantici in questa in questa situazione odierna di freneticità diciamo no eh non ci dobbiamo dimenticare da dove siamo venuti non ci dobbiamo non ci dimentichiamo che tutti noi veniamo dalla carta stampata e ci lavoriamo ancora e ci abbiamo sempre creduto non ci dimentichiamo l'amicizia e se mi permetti la stretta amicizia con gli edicolanti di tutta la nostra città assolutamente eh li abbiamo sostenuti li abbiamo aiutati li sosterremo e li aiuteremo questo eh poco eh ma sicuro perché è una categoria strettissima eh alla nostra perché grazie a loro noi possiamo divulgare quello che poi i lettori eh leggeranno eh e perché siamo affezionati perché mh è una categoria simpatica quindi la cosa familiare molto molto familiare la cosa bella eh che spero di Life Free Press possa aiutare è frequentare le edicole perché oggi magari si sono modificate ma si sono modificate secondo me anche in meglio hanno seguito il passo eh dei tempi quindi frequentatele le edicole non credo che nessun collegio mi dirà nulla se dico frequentate le edicole quindi eh nessun collegio disciplinare ecco eh mi dirà nulla su questo perché la stampa si regge anche con il loro lavoro assolutamente dichiarato poi non ultimo qualche mese fa come un lavoro essenziale del nostro paese tant'è che sotto il lockdown eh insieme a noi lavoravano anche eh gli edicolanti allora grazie al direttore tra poco lo saluto voglio dire grazie anche a tutti i colleghi e colleghi che eh riempiono con le loro notizie le loro esclusive le loro eh interviste le loro fotografie perché abbiamo anche validi colleghi eh su tutto il territorio anche a livello fotografico d'altronde insomma qui eh su Rieti Life la fotografia è una casa quindi non possiamo certo esimerci dal fare una da fare scelte fotografiche importanti quindi eh non vogliamo escludere nessuno non cito nessuno per non dimenticare nessuno perché sono tutti davvero molto molto importanti direttore grazie eh grazie a te Cristian che sei ovviamente impegnato in prima linea anche qui quindi eh spero ti faccia piacere assolutamente ricordiamo che Cristian eh oltre a essere il vice direttore della testata Rieti Life è anche il vice direttore del del Free Press è anche un po' colpa mia se c'è qualche castroneria qui no 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 aiutateci aiutateci a migliorare aiutateci a migliorare la vostra informazione il vostro tipo di lettura ehm abbiamo preso e vedrete dei box in prima pagina ecco dico soltanto questo per far capire questo è perché abbiamo non ci siamo inventati nulla io lo dico sempre questo per carità eh è un modo di leggere sulla carta come si legge eh sull'online per cui ci sono dei punti di riferimento abbiamo la fortuna di cambiare le prime pagine cambieremo diverse prime pagine per cui sarete anche insomma allettati a leggere e vedrete la dinamicità eh della prima pagina in particolare ma anche delle altre per cui io vi ringrazio ancora ringrazio tutta la redazione come hai fatto tu Cristian eh ringrazio tutti gli edicolanti l'ho già fatto Sinaggi l'ho già fatto ci saranno novità questo è inutile dirvelo che noi non ci fermiamo qui eh sia come direzione come proprietà e tutto qui leggeteci consigliateci se ci sono assolutamente siamo ultimi ma sono tra i primi ad essere eh ad avere il mio ringraziamento sono tutti gli sponsor che eh supportano questa nostra grande famiglia grazie al direttore Emiliano Grillotti grazie lo ribadisco a tutti coloro che trovate le firme ma spesso neanche trovate le firme ma il lavoro è davvero eh duro eh tutti i colleghi che veramente eh contribuiscono a rendere Rieti Life Free Press finora un prodotto vincente molto molto apprezzato come ci avete dimostrato voi eh non ce lo stiamo dicendo da soli tra poco a proposito dei sponsor come diceva Emiliano Grillotti parleremo proprio dell'offerta che eh questo prodotto Rieti Life Free Press propone eh agli inserzionisti. Nuovo, colorato, smart e gratuito è il nuovo Rieti Life Free Press. E allora torniamo in diretta, cambiamo ospite ma non cambiamo l'oggetto del nostro discorso e di questa puntata tra virgolette eh speciale dedicata a Rieti Life Free Press. Buonasera Valentina Fabri. Ciao Cristian. Ben ritrovato. Allora la nostra responsabile marketing eh non vogliamo fare la televendita. Io voglio essere molto diretto. Non vogliamo fare la televendita. Stiamo celebrando una novità. Ma semplicemente eh porre l'accento su un fatto. Questo eh Free Press, questo quotidiano che esce dal martedì al sabato inclusi eh non solo è un'occasione per voi per informarvi ma è anche un'occasione per le aziende e già sono tante fortunatamente per entrare in contatto con i lettori. È vero un'iniziativa commerciale però è anche un importante veicolo per eh l'economia del territorio in un periodo un po' particolare no? Assolutamente sì. Abbiamo abbiamo dato alla città e non soltanto un nuovo mezzo eh per promuoversi, per farsi conoscere eh portandosi dietro tutta quella che è il successo eh che in questi anni abbiamo eh contribuito a a far avere a tante aziende che hanno scelto Rieti Life per promuoversi eh da oggi c'è anche Rieti Life Free Press. Una una voce in più ecco potremmo dire così una voce in più per il territorio della città. Come dicevi i consensi sono stati fortunatamente già molti eh stiamo ricevendo via via che insomma tutti riescono ad avere la propria copia eh di Rieti Life Free Press tante richieste e eh non solo tante richieste a livello pubblicitario eh come puoi vedere eh il colorato che noi dicevamo inizialmente eh lo lo vediamo anche nel nella varietà di proposte pubblicitarie che i nostri inserzionisti si sono adoperati per per mettere sul su Rieti Life Free Press ma anche come eh punti di interesse. Questa è una cosa nuova eh che abbiamo voluto inserire sempre in ambito commerciale per quanto riguarda il nostro network perché anche essere eh punto di interesse e cioè un punto di distribuzione dove poter trovare Rieti Life Free Press e poi eh lo vedremo anche quali sono i nostri punti di interesse eh vuol dire avere pubblicità su Rieti Life. Quindi eh Rieti Life Free Press offre degli spazi pubblicitari così come le offre tutto tutto il network, tutti i siti del network. Assolutamente sì. Opportunità per chi avesse eh bisogno di farsi conoscere eh ampliando così un ventaglio che eh diciamo il network da sempre. È già vastissimo. Esatto. L'abbiamo potenziato ulteriormente è un ulteriore un ulteriore mezzo come dicevamo per accogliere se vogliamo anche una platea un pochino più eterogenea perché no? Certo certo perché la carta eh piace molto a una fascia di persone più grandi assolutamente sì. Ancorate anche a un retaggio un po' più eh diciamo tradizionale. Tradizionale anche da quello che è sono le grandi metropoli e soprattutto l'utilizzo che se ne fa. I ritmi che impongono le grandi metropoli. Piace anche secondo me ai ai giovani. Allora tu hai preannunciato i punti di interesse però sempre con l'aiuto dell'ottimo Antonio Priori in regia eh prima di partire dai punti di interesse eh voglio ricordare che Rieti Life Free Press si trova dal martedì al sabato inclusi eh in determinati punti. Dunque ve lo voglio ricordare martedì eh sabato inclusi eh cinque giorni alla settimana. Cinque giorni alla settimana. Questo lo rende assolutamente un quotidiano stop solo dunque di domenica e di lunedì. Valentina leggiamo insieme con calma e per favore tutti i punti disponibili dove i nostri lettori possono trovare eh i eh appunto il nostro quotidiano. Allora dal martedì al sabato come dicevi tu Cristian potrete trovare la vostra copia di Rieti Life Free Press al centro commerciale Perseo, al centro medico San Marco, al Craiextra su Via del Terminillo, al bar dell'ospedale, i caffè 099 e poi frutto dell'accordo eh col col Sinaggi come avrete letto negli scorsi giorni eh su Rieti Life. E come faremo? Ne parleremo da brevissimo. Esatto so che hai anche qui hai un ospite eh l'edicola dell'ospedale, l'edicola di Villa Reatina, quella della piazza principale di Rieti, l'edicola al Girasole, Molino della Salce, edicola di Viale Matteucci e l'edicola di Piazza Cavour. Chiaramente tutti questi punti Valentina li ricorderemo eh nelle varie nei vari lanci che faremo sul sul sito, ricorderemo in varie occasioni anche eh sullo stesso eh sullo stesso free press. Ricordando ai nostri ascoltatori, lettori, amici eh che eh Rieti Life e Rieti Life Free Press sono disponibili ad ampliare il ventaglio dei punti di interesse e dei punti di distribuzione in qualsiasi momento. Assolutamente. Quindi ci incontriamo, ne parliamo e chiaramente cerchiamo di venirci incontro l'un l'altro. Assolutamente sì. Se Antonio ci manda in in sullo schermo i contatti dell'ufficio marketing eh potete assolutamente fare riferimento all'ufficio marketing anche qualora vogliate eh diventare punto di interesse eh non soltanto quindi per inserire la la vostra pubblicità qui sul sul nostro free press. Quindi contattateci pure eh saremo ben lieti di trovare eh le modalità più adatte alle vostre esigenze, alla vostra azienda per potervi eh pubblicizzare qui su su Rieti Life Free Press. Fermo restando che eh abbiamo pacchetti che includono poi anche tutto l'aspetto web, tutto l'aspetto dei social network che resta assolutamente invariato. Grazie Valentina. Grazie a te Cristian. I riferimenti li trovano sempre ovviamente sui nostri canali e possono scriverci sempre. Li trovate anche all'interno del Free Press. Assolutamente. Quindi ce li avete sempre a portata di mano ora davvero in senso letterale. Marketing chioccio a rietilife.it oppure 346 766 6026. Grazie Valentina. Grazie Cristian. Vuoi far conoscere la tua attività? Fallo con Rieti Life. Siamo il network giornalistico più seguito della provincia di Rieti e il mezzo più efficace per promuovere la tua azienda. Un team giovane attivo a 24 ore su 24 che garantisce un'informazione tempestiva e capillare di ogni evento con notizie, foto, video, dirette e podcast. Più di 200.000 visualizzazioni ogni giorno con picchi che nell'ultimo anno hanno superato il milione. Più di 150.000 follower sui maggiori social network che quotidianamente interagiscono con i nostri contenuti. Una web tv con numeri da record e un palinsesto settimanale per tutti i gusti. Quattro siti web Rieti Life, Rieti Life TV, Terni Life e l'ultima nata Roma Life per un'informazione sempre più puntuale. Più di 200 le aziende locali e nazionali che in 10 anni hanno deciso di investire sulla nostra professionalità facendo crescere la grande famiglia di aziende amiche. Contatta il nostro ufficio marketing chiamando il 346 76 66 026 o inviando una mail a marketingchiocciola rietilife.it e fatti conoscere nel modo migliore. E ben trovati ancora ritorniamo in studio e cambiamo ospite perché prima ve lo abbiamo preannunciato Rieti Life in particolare Smile Comunicazione per distribuire Rieti Life Free Press ha sottoscritto un accordo lo ha sottoscritto con il Sinagi il sindacato nazionale dei giornalai d'Italia e di questo ed altro voglio parlare questa sera con Luca Simeoni che è il segretario del Sinagi di Rieti. Ciao Luca. Ciao buonasera a tutti. Ben trovato. Come stai? Come sta la categoria soprattutto? Dai nonostante il periodo ci difendiamo. Anche perché vi difendete ma io voglio fare un inciso gli edicolanti soprattutto nel periodo del lockdown lo erano anche prima soprattutto nel periodo del lockdown e lo hanno dimostrato tutta una serie di provvedimenti del governo sono un punto di riferimento per la città perché erano aperti praticamente sotto pieno lockdown alimentari, tabacchi ed edicole e farmacie e parafarmacie insomma quindi a dimostrazione della grande importanza di questa categoria. Proprio per l'importanza di questa categoria Rieti Life si è rivolta al Sinagi per chiedere come possiamo fare per distribuire Rieti Life Free Press e la disponibilità ve lo dico è stata totale. Sì è stato totale perché noi come categoria cerchiamo sempre di spingere e di sostenere quelle che sono le eccellenze del territorio quindi le buone iniziative e questa l'abbiamo reputata tale. A marzo noi siamo stati dichiarati come servizio essenziale dal governo quindi alla stregua delle farmacie, supermercati e tabaccherie e abbiamo svolto un ruolo di informazione prima di tutto ma anche in base alle regioni, ai comuni abbiamo sostenuto sul territorio nazionale anche la diffusione di prodotti sanitari tipo le mascherine e dato servizi di informazione quotidianamente. A Rieti e nel Lazio forse siamo un po' indietro da questo punto di vista però noi cerchiamo sempre di metterci a disposizione quindi delle istituzioni quindi dalla regione, comuni e province per cercare di spingere tutte le iniziative e dare quindi un servizio alla collettività e soprattutto sottolineare quella che è la centralità delle edicole all'interno dei comuni e dei piccoli paesi. Allora Rieti Life e il Sinaggi insomma si sono stretti la mano per permettere a Rieti Life Free Press di arrivare in questo momento in sette edicole della città. Con l'aiuto di Antonio vi facciamo vedere, vi facciamo rivedere i punti di interesse. C'è l'edicola dell'ospedale, c'è l'edicola di Villa Reatina, c'è l'edicola in piazza, c'è l'edicola del Girasole, c'è l'edicola in via Molino della Salce, l'edicola in via Le Matteucci e l'edicola a piazza Cavour. Questi sono i punti che al momento, in cui al momento trovate Rieti Life Free Press. C'è un però nel senso che chi aderisce a Sinaggi ha una possibilità in futuro di interloquire ancora per quanto riguarda Rieti Life Free Press. L'obiettivo è chiaro, è quello di implementare sicuramente i punti di interesse e i punti quindi diffusionali di questo prodotto. Secondo noi è stata un'iniziativa appunto da sposare e un'iniziativa che ci mette in prima linea anche nella diffusione di un Free Press, che è un giornale gratuito e prendeci differenze anche dai prodotti che noi notoriamente trattiamo. Ma essendo scaduto l'accordo nazionale di categoria da più di dieci anni, abbiamo ritenuto necessario, uno per implementare anche le economie delle nostre aziende, due per sostenere le buone iniziative del territorio, stringere questa collaborazione, andare avanti e sicuramente implementare i punti di interesse ma anche nella speranza di poter esternare quindi alla provincia anche questo tipo di prodotto. Lo speriamo, chiaramente noi come abbiamo preannunciato siamo disponibili a qualsiasi tipo di discussione, di incontro e di stretta di mano. Lo ripeto, sono sette le edicole adesso, ma speriamo tutti possano implementare, sono tutte aderenti al Sinaggi, perciò insomma questo rientra negli accordi. Da edicolante prima che da segretario del Sinaggi, qual è stata la risposta al Free Press del lettore e dei lettori? Diciamo che l'obiettivo per noi è stato raggiunto, è quello di far circolare più persone all'interno delle nostre attività e soprattutto rivolgere questo tipo di prodotto a quelle persone che magari non cercavano un approfondimento in altri prodotti editoriali e quindi soprattutto ai giovani, quindi a una fascia sicuramente di età inferiore di quella che notoriamente frequenta le edicole. La risposta è stata molto buona, quindi è stato un veicolo importante l'edicola di distribuzione e anche il fatto di, anche chi comprava un prodotto di togliare ben preciso, quindi definito nell'arco degli anni e della sua vita, ha scelto di quindi fare un approfondimento anche su questo tipo di prodotto e quindi le vendite non sono sicuramente né diminuite, ma c'è stato un'influenza positiva e soprattutto una circolazione all'interno nelle nostre attività. Lo vedete, quelle foto che stanno passando in sovraimpressione che ci propone Antonio e lo ringrazio, sono diciamo quelle che abbiamo scattate esattamente una settimana fa, quelle che poi stiamo celebrando, cioè una settimana dalla prima distribuzione, ci sono le edicole, ci sono i punti di interesse, abbiamo ricevuto un calore veramente particolare da tutti e in particolare dagli edicolanti che ci hanno accolto come fossimo a casa, insomma ci siamo sentiti davvero a casa. Questo che cosa significa? Oltre che ricordarvi di rivolgervi in maniera fidata, in maniera appassionata alle edicole sotto casa, a quelle che vi abbiamo elencate perché sono un riferimento, ricordarvi che appunto trovate RetiLife Free Press proprio lì e lo trovate tutti i giorni, dal martedì al sabato inclusi, così come abbiamo deciso di uscire lasciandoci quella domenica e quel lunedì per appunto recuperare le energie e chiaramente poi confezionare il prodotto. Peraltro è da poco andato in stampa, l'edizione è da poco andata in stampa, comunque è stato dato l'ok all'edizione di domattina, quindi la troverete nelle edicole. Luca qual è il futuro di Sinaggi, qual è il futuro degli edicolanti in questo periodo storico? Perché dobbiamo si promuovere questo nostro accordo che è bellissimo, però voglio anche fare un focus sulla categoria. La categoria è in estrema difficoltà perché è stato un 2020 molto difficile e che ci ha esposto sicuramente forse a tutte le categorie, ma in particolare anche la nostra, quindi ha sicuramente una crisi economica importante, una crisi dovuta anche a questa crisi sanitaria e quindi ci troviamo a lavorare veramente per poco in tutti i giorni con orari massacranti perché un'edicola sta aperta circa 13 ore al giorno e quindi l'esposizione anche dell'edicolante stessa è un'esposizione importante e tutti si sono resi conto quindi della validità e del valore del nostro lavoro, meno che gli editori. Io partecipo da circa tre anni a questo tavolo di trattativa per rinnovo dell'accordo nazionale, una parte degli editori è pro-edicola, l'altra parte non intende sicuramente firmare o di investire neanche un euro nelle nostre attività non rendendosi conto che la chiusura di un'edicola e purtroppo ultimamente ne hanno chiuse tante, soprattutto nelle grandi città. È una perdita di contatto col territorio. È una perdita di contatto e sono delle copie che non saranno più recuperate in altro modo anche per loro e quindi se non si arriva a ragionare come filiera il futuro sarà difficile ma noi sicuramente non ci arrendiamo e stiamo ponendo in essere nuove iniziative, ora naturalmente rallentate da questo Covid, però per alzare la testa, alzare la voce e perché vogliamo questo rinnovo dell'accordo nazionale. Noi vi siamo vicini e fa strano, l'abbiamo detto forse più volte, che una testata nativa online possa supportare qualcosa che è fisico e invece l'abbiamo fatto quindi in una nostra filosofia di pionieri, crediamo di aver fatto qualcosa di buono. Sempre con l'aiuto di Antonio voglio rivedere l'edicolo in cui i Rieti Life Free Press è disponibile, ve le rielenco nuovamente, l'edicola all'ospedale dell'Ellis, l'edicola a Villa Reatina, l'edicola in piazza, in piazza Vittorio Emanuele II, secondo edicola il Girasole, Largo Santa Barbara quindi, zona Palazzo Sanizzi, edicola a Mollino della Salce, vabbè un riferimento, inutile stare a specificare altro, l'edicola in Viale Matteucci, detto anche strisciata notizia per assonanza con la nota trasmissione e l'edicola in piazza Gour, un altro riferimento, tutti i riferimenti anche perché la città non è enorme e insomma ogni chiosco, ogni edicolante è anche una persona di famiglia. Luca grazie, ci rivediamo, siamo sempre in contatto, porta il saluto a tutti i tuoi colleghi che accolgono quotidianamente Rieti Life Free Press. Grazie a voi e naturalmente speriamo di rivederci presto e di implementare questa iniziativa. Assolutamente, lo faremo! Nuovo, colorato, smart e gratuito è il nuovo Rieti Life Free Press. E così, ci siamo voluti regalare una piccola festa con questa trasmissione per la prima settimana di Rieti Life Free Press. Vi invito a sfogliarlo, a cercarlo tutte le mattine dal martedì al sabato inclusi, nei punti di riferimento della città che trovate anche sul sito, ovviamente. Continuate a seguire Rieti Life, Roma Life, Terni Life e tutti i social Facebook, Instagram e Twitter, sempre aggiornati del nostro network. Grazie per averci seguito, buona serata da Cristian Dioceiuti. Nuovo, colorato, smart e gratuito è il nuovo Rieti Life Free Press. Grazie a tutti.